Il sindaco di Pomezzi, Adriano Zuccalà, ha tracciato un bilancio dei primi tre anni di mandato. Stiamo lavorando per costruire un futuro migliore da lasciare ai nostri figli, ha commentato nel corso della conferenza stampa che si è svolta in aula consigliare. Zuccalà, inoltre, ha evidenziato che l'impegno quotidiano dell'amministrazione negli ultimi 36 mesi è quantificabile in 756 delibere di giunta e 264 di consigli approvate. Nel 2018, aggiunto, abbiamo completato il rifacimento della facciata della scuola Don Bosco e messo in sicurezza il sito della EcoX. Nel 2019 abbiamo inaugurato il museo della città di Pomezia. Sono stati aperti la nuova delegazione di Torbaianica, con lo sportello unico di accesso per i servizi al cittadino e il mercato a chilometri zero. Dall'8 marzo del 2020 in poi è stato un susseguirsi di urgenze sanitarie, amministrative e sociali che ci hanno impegnato senza sosta. Nonostante le evidenti difficoltà, sono state tante le iniziative che siamo riusciti a realizzare, come l'inizio dei lavori per il canile comunale, l'avvio del progetto Pegaso per impedire la pesca a strascico ed è stato rimodulato il programma integrato di intervento per il recupero della ex cava Tacconi. Ma sono tanti altri gli obiettivi che abbiamo in cantiere. Partiranno infatti, entro fine anno, gli interventi su Santa Palomba, con la riqualificazione dei parcheggi, dei marciapiedi, delle strade e l'installazione della videosorveglianza, ha concluso il sindaco.